Buongiorno, sono Cesare Luzzi, presidente dell'Associazione Specialisti Italiani in Ortodonzia, ASIO. Siamo qui a Bologna, 28-30 novembre 2019, al nostro congresso annuale, in cui la Casa Comune degli Specialisti in Ortodonzia, ossia ASIO, si riunisce per discutere tutte le tematiche che girano intorno alla nostra professione. Un incontro scientifico, senza altro, ma un incontro anche sindacale su tutti i temi che riguardano anche la medicina legale, il marketing, il management della professione e tutto quello che ruota intorno alla nostra disciplina, alla nostra specialità in Ortodonzia. Sono in chiusura del mio bienio di presidenza, durante il quale il nostro mandato ha perseguito tutti gli obiettivi che si era promesso di fare, ossia quello di promuovere la figura dello specialista in Ortodonzia con tutti i propri mezzi al pubblico, ai pediatri, agli odontoiatri, a tutto il mondo che ci circonda. La nostra branca è una branca completamente specialistica dell'odontoiatria e noi siamo impegnati su tutti i fronti per dare allo specialista in Ortodonzia il suo ruolo sia quello di intercettare, curare e monitorare tutte le malocclusioni dentali. Il nostro bienio è stato un bienio ricco di impegni, di grandi soddisfazioni e di duro lavoro durante il quale abbiamo cercato di promuovere la nostra immagine e far girare intorno alla nostra professione tutto quello che riteniamo fondamentale e importante in modo che tutte le componenti possano bilanciarsi ed esprimersi nel migliore dei modi. Tutto ovviamente per il bene della salute del paziente come nostra mission finale, quella di educare noi stessi, il nostro pubblico, tutti gli operatori del settore per arrivare allo stato dell'arte delle cure in Ortodonzia e pertanto il miglior servizio possibile per i nostri pazienti. Dopo due anni di direttivo sono estremamente contento e onorato di poter cedere il testimone al direttivo entrante. Buongiorno a tutti, sono Giorgio Iodice, presidente eletto del 2020-2021 dell'Asio, l'Associazione degli Specialisti in Ortodonzia. E' per me un onore e un onere molto grande che porterò con grandissima soddisfazione e con il massimo del mio impegno. Ovviamente in continuità con quanto ha fatto dal direttivo precedente. Quale sarà la nostra mission? E' molto semplice, sarà difendere, tutelare e portare quanto più possibile in primo piano la figura dello specialista in Ortodonzia, portarla all'attenzione della maggior parte delle persone possibile, con tutti i mezzi possibili, stampa, social e con quant'altro. Questa è la nostra mission primaria, ma accanto a questa essere a fianco dei nostri soci in tutte le metodiche possibili. Quindi essere al loro fianco nella difesa dei loro diritti, ma anche essere al loro fianco nel consenso informato, nella tutela legale e perché no nella gestione dei dati e delle informazioni in studio, nelle differenze tra lo studio privato e il lavoro in consulenza e quant'altro. Saremo al fianco di tutti i nostri associati. Non ultimo e non meno importante, aiutandoli nella loro formazione e continuo aggiornamento. Queste saranno le nostre mission. Al pari ci rivolgeremo agli utenti, a tutti gli utenti, quindi al pubblico totale, ai nostri pazienti. Ci rivolgeremo loro per far comprendere la differenza che c'è tra un trattamento fatto da un odontoiatra generico e uno specialista in ortodonzia, un laureato in odontoiatria che dopo il suo corso di studio ha deciso di dedicare altri tre o più anni alla sua specializzazione in questa fantastica branca. Quindi la differenza che può dare il valore aggiunto di uno specialista in ortodonzia e consentitemi anche la differenza che c'è tra un trattamento fatto da uno specialista in ortodonzia e quello che può essere magari un ortodonzia fai da te, di cui oggi sentiamo tanto parlare. I cui pericoli devono essere all'attenzione di tutti, i cui rischi sono molto significativi e importanti. E questa sicuramente è una delle nostre mission primarie. Per cui mi faccio da solo, a me e a tutto il mio consiglio direttivo, un grande in bocca al lupo. Sono certo che noi ce la metteremo tutta e insieme a tutti i soci faremo un gran lavoro.